Anche per questa puntata sono in compagnia perché abbiamo una bottiglia un po' più grande da dividerci e questa volta andiamo ancora in Belgio con una Cézón Visto che questa bottiglia me l'ha gentilmente portata Mirko, direi di presentare tu questa birra Sì, questa è una Cézón, il birrificio in questo caso è The Glacentoren, ovviamente del Belgio La Cézón si chiama Cézón d'Erpmer, che poi è il paese in cui questo birrificio ha la sede Stile è una Cézón, riferimento BJCP 25B Gradi alcolici 6,5 Il prezzo per questa bottiglia da 75 è 9,90 E bicchiere consigliato, il tulipano, anche se ci siamo accorti che loro consigliano anche la pinta E per me non si tratta di un primo assaggio, mentre per Andrea sì Sì, prima volta che assaggio questa birra Come dicevamo, sul bicchiere ci siamo accorti che appunto sul retro della confezione Viene indicata la pinta, quindi ci siamo portati qui anche una pinta poi eventualmente per fare un test Se no, secondo noi, un bicchiere che poteva andare bene per questo stile Potevano essere i bicchieri a tulipano comunque a chiudere In questo caso ho preso per avere due bicchieri uguali questo bicchiere San Bernardus Che forse più che tulipano sono quelli a pallone perché non sono poi riaperti Cioè svasati poi sulla parte superiore Però vanno comunque bene secondo me perché fanno... Sono birre che fanno comunque una schiuma abbastanza abbondante E infatti anche questo bicchiere solitamente viene riempito fino a questa tacca Lasciando poi parecchi centimetri di spazio per la schiuma Passando alla bottiglia Allora, è interessante l'estetica di questa bottiglia che è incartata E quindi non c'è un'etichetta appiccicata O c'è anche un'etichetta poi sotto? Non penso proprio Probabilmente no C'è solo l'involucro esterno in carta Dove vengono stampate tutte le informazioni Quindi frontalmente appunto c'è il logo e il nome della birreria Sul retro ci sono informazioni che a noi piacciono come temperatura di servizio 6-10 gradi Viene indicato dove conservarla E appunto c'è indicato come bicchiere la pinta Che la stessa cosa c'è un pochino sorpreso Faremo una prova per eventuali differenze Altra cosa interessante che mi hai fatto notare adesso è che ci sono i voti Sì, evidentemente ci tengono molto a far sapere che la birra piace al pubblico Infatti c'è un bollo sul fronte in cui riportano i voti di Rit Beer e Beer Advocate Che sono molto alti, 95 su 100, 92 su 100 Sicuramente per quello che mi ricordo è una birra che apprezzo molto Poi adesso assaggeremo nuovamente e giudicheremo Va bene, vuoi aprirla tu? Sì, dai Così senza aumentare tutta la carta Un po' nel viaggio è stata un po' sbattuta Però neanche... Vado? Vai Ecco la carta Sì, la scomodità delle pietre Esatto Mi sa che dovremmo aspettare un attimino Ok, direi che la schiuma è abbondante quindi aspettiamo qualche secondo per farla compattare un pochino e riversarla Dopo qualche minuto di attesa abbiamo fatto qualche rabbocco per ottenere una schiuma e una birra diciamo accettabili Una delle considerazioni che giustamente stava facendo Mirko adesso durante il servizio È che in questo modo facendo più di un... cioè mettendo in orizzontale la bottiglia più di una volta andiamo a versare anche il lievito Però giustamente mi dicevi che essendo stata trasportata... Sì, sicuramente avendola portata qua già il fondo di lievito si era smosso Poi comunque in un servizio... anche se fosse tirata fuori dal frigo è difficile farla in un colpo A meno di non fare quasi come alla spina di poi tagliare la schiuma Però in bottiglia diventa un pochino più complesso Sì, c'è da dire che comunque siamo nel mondo delle birre e beghe quindi dove i lieviti sono comunque particolarmente caratterizzanti Forse soprattutto nelle season quindi non potrà andare ad alterare particolarmente poi le sensazioni Niente, direi che possiamo procedere Sicuramente sulla schiuma non abbiamo dubbi Abbondante, persistente Sicuramente E anche abbastanza fine Mentre per il colore della birra Un oro spento direi molto velata Piuttosto velata, sì Bene, diamo un naso che è la cosa più interessante Che già versandola ci stavamo anticipando un po' di profumi Allora, dopo un'attenta analisi olfattiva Siamo entrambi abbastanza d'accordo su quello che c'è nella parte aromatica Io le prime due cose che ho notato e dimmi se confermi È sicuramente una parte fruttata e direi di agrumi E una parte, diciamo, per intensità Le due componenti principali sono appunto questa agrumata e di spezie Ma eravamo entrambi d'accordo sul fatto che probabilmente è pepe Perché giustamente mi facevi notare che è più pungente rispetto al coriandolo tipico delle blanche Per intenderci Sì, come spezie direi assolutamente una sensazione di pepe più pungente E non appunto come il coriandolo, altre spezie più profumate È proprio una parte pungente che si sente al naso D'accordissimo sugli agrumi, sicuramente sono le due componenti fondamentali Si sente, per rimanere nel fruttato, almeno io ho sentito una parte anche di pesca O comunque frutta e pasta gialla di quel genere E una lievissima nota di pane e cereali in fondo Sì, è vero Più leggera rispetto alle altre Però sì, c'è anche quella nota di pane Aveva fatto anche un test con la pinta E in effetti nella pinta a me sembrava di sentire di più la frutta E giustamente tu mi hai fatto notare che nella pinta si sente meno la parte di pepe Forse quindi è quello che va Che riesce a far spiccare anche gli altri Passando adesso al gusto Allora, la prima cosa che si nota sicuramente è una parte di cereali Che invece al naso era molto leggera Qua è direi quasi quella che la fa da padrone Accompagnata sempre da delle note di agrumi che ritroviamo al naso Si trovano anche qua Con una leggera acidità Dicevamo tra di noi che appunto questa leggera acidità Il profumo, il gusto leggermente agrumato Più un amaro, una secchezza tipica della season Riportano un po' la parte bianca del limone Sì, a me veniva subito in mente quella parte lì Eccetto per la stringenza che ovviamente non c'è in questo caso Però sì, questo amaro, agrumato Mi faceva pensare subito appunto a quella parte del frutto Per quanto riguarda le sensazioni boccali C'è una frizzantezza davvero intensa Che è tipica di questo stile E che rende in effetti le season Le biere secondo me perfette per il periodo estivo E ammetto che secondo me di questa Se ne potrebbero bere davvero a secchi in estate Perché questo bel agrumato speziato frizzante Davvero ti sciacqua bene la bocca E ti disseta perfettamente Forse c'è una leggerissima acidità Ma comunque è in stile Esatto, questa piccola acidità E comunque non stiamo parlando di livelli Da birra acida, fermentazioni spontanee, saguare eccetera È proprio leggerissima come c'è anche in certe birre di fomento Sì, esatto Abbiamo fatto quindi anche una prova Bevendo dalla pinta E giustamente mi facevi notare Che cambia un po' forse il modo di bere Più che il gusto di per sé della birra Sì, quello che mi è sembrato Ovviamente il gusto è prettamente identico Però nel tulipano, nel balun in questo caso Si tende a birrare più lentamente Almeno io mi faccio passare la birra in bocca La gusto un po' di più Mentre nella pinta ho una bevuta molto più veloce e diretta In cui lascio meno tempo la birra in bocca E questa cosa, su questa birra Mi ha fatto sentire meno la roma questa frizzantezza E sicuramente in voglia birra ne è tantissima Sì, anche io quello che ho notato subito Come differenza forse tra le due Era più a sensazione di Cioè più a livello di sensazione boccale appunto Differenza di frizzantezza Piuttosto che differenze poi gustative particolari Quindi forse l'unica differenza potrebbe essere questa Però diciamo che secondo me abbiamo fatto bene anche a versarla In questo bicchiere Non ci siamo persi nulla Abbiamo controllato quindi sulla bottiglia Non ci sono etichette appunto C'è solo questa carta esterna E giustamente una cosa che ci siamo dimenticati Prima di sottolineare Il fatto che apprezziamo entrambi molto Che viene riportata sulla confezione La data di imbottigliamento Quindi non c'è bisogno di fare strani calcoli Andare a cercare su internet metodi per ricavare la data È scritta direttamente dal produttore Così sappiamo subito non solo Quando è la data di scadenza La shelf life di questa bottiglia Ma anche quando è stata imbottigliata Che in questo caso era È febbraio di quest'anno Febbraio di 2019 Quindi direi che per il tipo di birra che è Siamo perfettamente in tempo per berla Quindi per concludere Secondo me questa può essere una buona birra Il punteggio sì 95% su rate beer Boh non so mai Nel senso che spesso ci sono punteggi molto molto alti Secondo me su certe birre Che non capiamo Sicuramente però Così come la Saison Dupont È un esempio di stile perfetto Per capire esattamente cosa sono le sesone Per andare su questi classici del belgio Che hanno un po' condizionato Quelli che sono oggi gli stili moderni Sicuramente il voto È sempre molto relativo Il voto che si dà alle birre su un'app Però è perfettamente in stile Quindi appunto Molto meno conosciuta dalla Dupont Ma può essere una valida alternativa Per capire cos'è una buona Saison Questa quindi era la Saison Dertmer Skoll Per capire cos'è una buona Saison